Edizione 2020 del Pescare Show, l'azienda Trabucco sempre al top sempre presente e in crescita e per il settore servcasting vicino a me è Emiliano Tenerelli che oggi vuole farci vedere una canna nuova. Sì, devo dire che sono tantissime le novità che stiamo presentando e una di queste è questa bella canna che ho nelle mani, che è la nuova Crypteria con un nuovo carbonio CX e Nanotech che consente di realizzare e conservare la stessa potenza, se non maggiore, dei fusti di diametro ridottissimo. Davvero un gioiellino. Anelli profilo K, anche questa abbiamo utilizzato la tecnologia X-Joint e Twist Free su tutta la lunghezza del fusto. La caratteristica è vetta molto sensibile che è importante per la pesca della spiaggia e tanta potenza nel lancio. Questa che ho tra le mani è la versione da 200 grammi, lunghezza 4,30 metri. La lunghezza è unica ma è disponibile in diverse grammature di lancio. C'è la 200, la 160 e la 130 grammi. Sempre del team Servcasting, Giuseppe Alesi ha in mano la supernova. La nuova supernova che è l'evoluzione della vecchia supernova. Tante sono le novità. Innanzitutto è cambiata la struttura del carbonio, cosa principale che non è più il CX2 ma il CXN. Quindi con struttura nanolite molto più progressiva, molto più rapida, molto più performante. Abbiamo cambiato gli anelli, sono sigai da profilo K. Il profilo K è importante soprattutto per chi fa surf ed usa soprattutto i trecciati in quanto elimina totalmente quelli che sono i grovigli. Abbiamo adottato il sistema twist free che già c'era comunque precedentemente anche nelle vecchie supernova. però lo abbiamo allungato al secondo pezzo. Quindi oltre il manico abbiamo anche il secondo elemento fino al primo anello dove abbiamo adottato appunto il sistema twist free che dà più precisione in fase di lancio. La vetta è ibrida, quindi con un innesto del vettino in carbonio pieno. Cosa importante è un cadere frangente, quindi la notte quando puntiamo alla nostra lampadina visualizziamo subito la vetta. Un'altra cosa importante che ha questa canna assieme alle altre novità è il slick surface. Cosa è? È praticamente un'altra lavorazione del carbonio in cui praticamente non si attacca nulla, tutto scivola. Cioè se noi prendiamo ad esempio un adesivo o un nastrisonante, qualcosa di appiccicoso e tentiamo di attaccarlo sulla canna, non attacca, scivola. Lo stesso vale chiaramente anche per l'acqua, quindi tutto scivola via. La canna è fornita in due lunghezze, 4 metri e 30 e 4 metri e 70 e in tre potenze, 130, 160 e 200 grammi. Sempre in casa Trabucco per quanto riguarda il feeder o vicino a me Ciro a Feltra che ci dice le news. Allora ciao a tutti, come novità di casa Trabucco riguardo il feeder abbiamo queste nuove canne che si chiamano Compass. Particolari dati queste nuove canne rispetto alle altre che sono molto sottili come potete vedere dal flusso, molto sottili. La placca è diversa rispetto alle altre e sono canne comunque corredate con ben tre vettini light, medium e strong. Gli anelli sono in sick e ci consentono anche l'utilizzo del trecciato quindi possiamo usare sia trecciati oppure nylon quindi gli anelli sono proprio adatti anche all'utilizzo del trecciato quindi non si corrugano. Come già vi ho detto prima sono canne da flusso molto sottili sono molto bilanciate. Le placche rispetto alle canne dall'anno scorso abbiamo cambiato un pochettino diciamo i materiali, la rifinatura che è un po' diversa. Ogni canne è correttata da tre vettini light, medium e strong e sono canne che comunque hanno un casting che partono da 25 grammi fino a 60 grammi quindi si possono adattare sia per l'acqua in tenne che per il mare. Un po' sono versatili e comunque sono canne che anche dal punto di vista agonistico riescono comunque a soddisfare l'esigenza degli atleti e dei pescatori. A fianco a me il campionissimo giusto di pesca alla carpa Gianni Buongiorno a tutti grazie per il complimento siamo qui allo stand di Trabucco a Vicenza con tutti i campioni, non solo io per dare un'occhiata a tutti i nostri prodotti soprattutto alle novità Trabucco questa non è una novità ma sono le mie canne preferite per la pesca all'inglese, soprattutto alla carpa e sono le nuove Energia XR in commercio già dall'anno scorso sono delle canne con anellatura SIC placca Fuji con placca molina nello scorrevole a scomparsa nel fondo un rivestimento in eva per agevolarci in fase di lancio ne sono tre canne distinte con azione una 30 grammi una 25 e una 20 quindi una un pochino più leggera una via di mezzo e una un pochino più pesante da queste canne viene fuori un'altra canna che è la Spectrum sono sempre canne top di gamma però un attimino più elastiche differenza tra l'energia e la Spectrum è il carbonio il carbonio CX1 con l'energia invece il carbonio CX2 un new entry in casa Trabucco, giusto? sì, giustissimo piacere, sono Gargiulo Ruggiero il nuovo agente per la Campania e sto qui a presentarvi, cari amici dei panieri rivoluzionari 2020 con piede da 36 e ci sono di vari modelli che adesso vi porto a presentare allora, ci avviciniamo così abbiamo il classico con un solo vano qualcosa di più semplice con un telaio ad X molto resistente stabile poi passando per il pescatore più comodo per le ore, diciamo, dove deve passare molte ore di pesca con una classica spalliera reclinabile sempre con lo stesso formato sempre con lo stesso vano però la cosa in più è la spalliera che è adattabile solo a questo paniere poi ci abbiamo con due cassetti frontali e con il vano questo è l'unico così e ci possono comunque aggiungere altri moduli per farlo più alto o per molti cassetti poi ci abbiamo l'altro con il cassetto laterale sempre modello Genius con lo stesso relaio come tutti solo che qui la pedana è un accessorio praticamente va messo a parte non va completo con il paniere perché viene acquistato sotto un'altra formula diciamo e poi ci abbiamo l'ultimo che con due vani davanti più cassetto laterale tutti con lo stesso formato AX vi faccio vedere eccolo qua molto resistente stabile e molto leggero questo viene molto usato sulle scogliere sui porti sui pontili per la pesca in mare per le persone per stare comode in quelle ore per rilassarsi un pochino diciamo così ed è molto ideale veramente una rivoluzione nel campo dei panieri con questi piedi da 36 l'unico che l'ha fatto la cassa tra bucco e al momento stiamo facendo la differenza speriamo di continuare così ciao a tutti per chi ancora non mi conosce mi chiamo Daniele Bonetti collaboro con l'azienda Trabucco per quanto riguarda il settore Trotalago e oggi siamo qui al Pescare Show di Vicenza per presentarvi una delle più grandi novità a marchio Trabucco per il settore appunto Trotalago che è rappresentata da una nuovissima serie di canne top di gamma che prende il nome di Switch si tratta di una serie di canne costituita da 13 modelli differenti suddivisi in 5 da Tremarella contraddistinti dal colore rosso e 8 da Bombarda contraddistinti dal colore arancione tutte le canne sono state realizzate con il carbonio più pregiato di casa Trabucco denominato CX2 Nanotech che ha consentito di ottenere azioni calibrate nei minimi dettagli tutte le azioni sono paraboliche super paraboliche o parabolico progressive proprio come vuole il pescatore moderno di oggi tutte le vette in carbonio di alto modulo ultrasensibili sono innestate dall'alto in tutti i modelli fatta eccezione per l'azione 1 Bombarda 7 e 8 Bombarda nelle quali escono in telescopico tutta la serie Switch viene distribuita nuda come vuole una serie di canne top di gamma quindi senza anelli e placca portamulinello ma noi di Trabucco quest'anno non ci siamo limitati al nostro lavoro ma abbiamo voluto pensare anche al lavoro di chi le andrà a montare di conseguenza a corredo di ogni Switch verrà fornito un kit composto da una placca portamulinello e tutti gli anelli calibrati per ogni singola azione ed inoltre vengono forniti a corredo anche i tubetti per la realizzazione dei passanti scorrevoli delle vette la placca è una taglia 6 low profile della Fuji che si adatta perfettamente al calcio delle Switch tutte le Switch si caratterizzano per un fusto estremamente slim lo potete notare dalla parte bassa che vi assicuro che è grossa più o meno come una moneta da un centesimo anzi qualcosa meno e all'interno del calcio di ogni Switch è presente un bilanciere modulabile e asportabile che consente di personalizzarne la bilanciatura di ogni attrezzo come vuole una serie di canne top di gamma anche dal punto di vista estetico abbiamo cercato di mantenere eleganza e sobrietà quindi tutte le Switch si caratterizzano per un fusto con finitura opaca e tutte le finiture sono di alto pregio nella parte bassa del calcio troviamo i marchi CX2 Nanotech che si riferisce al materiale con il quale sono realizzate LRC che sta a rimarcare sempre la qualità del materiale a bassissimo contenuto di resina e un nuovo marchio introdotto con questa serie che è TT Pro che sta per Trabucco Trout Pro che sta a identificare tutta una linea di prodotti dedicata al pescatore più esigente con tutte queste caratteristiche che vi ho annunciato e data la qualità di questo prodotto probabilmente vi aspetterete un prezzo eccessivo ma vi assicuro che non è così vi invito quindi a rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia per chiedere il prezzo che sarà una cosa che vi stupirà data la qualità di questo prodotto è stato un prezzo